Riflettiamo insieme, un programma a cura di Radio Voce della Speranza. Un saluto a tutti da Alessia Calvagno, con me Maria Rosa Cavalieri, responsabile del Dipartimento Ministeri Personali e Scuola del Sabato della Chiesa Cristiana Adventista. Ciao Maria Rosa. Un caro saluto anche da parte mia. Parliamo anche oggi di sofferenza e continuiamo a cercare nella Bibbia dei testi che possano guidarci nella riflessione su questo argomento. Un argomento che sicuramente è sempre attuale, non solo nel momento storico che stiamo vivendo, perché il male e il dolore sono reali nelle nostre vite e perché il nostro è un mondo che soffre. Sì, noi viviamo sicuramente in un mondo dove molte cose non vanno, un mondo che ci appare sempre più devastato proprio. Un mondo dove ci sono delle vite che in questo momento sono devastate, molte lo erano prima, in questo momento storico molte vite stanno subendo proprio anche una devastazione a causa della conseguenza di questo virus terribile. Ecco, la volta scorsa noi avevamo fatto una premessa introduttiva sul fatto che non sia semplice dare una spiegazione alla sofferenza, ma che stavamo cercando delle risposte nella Bibbia. Noi cerchiamo di vedere se nella Bibbia ci sono degli elementi che ci permettono di rispondere ad alcune domande che poi ogni persona si fa prima o poi. Una delle domande che noi ci poniamo è su chi sia il responsabile del dolore e del male che viviamo. La volta scorsa noi abbiamo visto una parabola di Matteo 13 su una spiegazione che Gesù dà poi anche di questa parabola sul tema delle sofferenze del mondo. Gesù qui descrive al capitolo 13 di Matteo, lo avevamo visto, quindi lo riassumo giusto brevemente per riprendere il discorso, Gesù descrive il mondo come un campo, un campo in cui c'è un contadino che ha seminato del grano, però in mezzo al grano crescono anche delle zizzanie, quindi si tratta di un'erba che fa dei danni, un'erba che soffoca il grano e quindi Gesù qui spiega in questo capitolo 13 di Matteo la ragione per cui in questo campo è presente un elemento che soffoca il buono che c'è nel campo che è il mondo. Il responsabile, dicevamo la volta scorsa, è il nemico, questo lo troviamo nel versetto 28, poi nel versetto 39 Gesù proprio spiega nel dettaglio i discepoli, dice il nemico è il diavolo, è quello che ha seminato questo male, questa sofferenza. Ecco, ci ricordiamo forse su questo anche il racconto della Genesi che dal primo capitolo poi anche nel secondo spiega come siamo stati creati da Dio con amore in modo perfetto e poi al capitolo 3 la Genesi racconta la scelta di Adamo e Eva di andare in una direzione diversa dopo la tentazione del serpente. Ecco, in questi primi capitoli della Genesi, in particolare nel capitolo 3, noi capiamo alcune cose sul peccato, quello che viene chiamato peccato dalle religioni e sull'ingresso della sofferenza e della morte nel mondo. Ecco, allora questa parabola di Gesù sul campo, sul nemico, sulle Zizzania, in fondo mi sembra quasi un modo diverso con cui Gesù riprende questi tre primi capitoli della Genesi che parlano proprio delle origini del nostro pianeta, della nostra creazione e della nostra situazione attuale. Quindi, questa idea di un mondo, di un campo perfetto dove erano state seminate cose buone, perfette, ma in cui a un certo punto è stata svolta un'azione deliberata, nel campo è stata seminata sofferenza da un nemico. E questa sofferenza cresce come un'erba forte, come un'erba soffocante e Gesù ci spiega che questa erba che cresce per azione del nemico sono persone malvagie che scelgono deliberatamente di orientare, di ispirare la loro vita, potremmo dire non al manifesto di Dio, ma al manifesto di questo nemico. Quindi Gesù, con questa parabola, ci aiuta a capire una cosa importante, che l'autore del male non è Dio. Questo già è un tassello molto importante per noi esseri umani, sapere che Dio non desidera il male non è l'autore del male che viviamo sulla nostra pelle. Come possiamo fare per sapere qualcosa in più su Dio e sul modo in cui si pone nei nostri confronti? Per esempio, chi siamo noi per Dio? Che valore abbiamo per Lui? Allora, io oggi potrei, diciamo, cercare di rispondere a questa domanda perché è importante capire il carattere di Dio ed è, come tu mi hai chiesto, appunto, anche importante chi siamo noi per Dio, come Lui ci vede, come ci considera. È difficile in poco tempo, però proviamo ad aprire la Bibbia, perché Dio ha fatto in modo che potessimo conoscere qualcosa su di Lui attraverso la Bibbia, le cose più importanti che possiamo conoscere su di Lui e che ci devono fare capire se possiamo avere fiducia in Dio. Ecco, la Bibbia, ricordiamoci che è un insieme di libri, Biblia in greco al plurale vuol dire proprio libri, infatti sono numerosi libri scritti da autori di diverse epoche che sono stati suscitati da Dio, spinti dallo Spirito Santo, ispirati dallo Spirito Santo e sono stati autori di diverse estrazioni sociali, oltre che di diverse epoche. Nonostante persone diverse in tempi diversi, in vari punti noi troviamo nella Bibbia dei versetti che ci parlano di Dio, del suo carattere. Ecco, ne possiamo vedere alcuni, uno lo riprendo già dalla volta scorsa, perché è giusto per ricordarlo, avevamo letto insieme Alessia e Giacomo capitolo 1, versetto 17, dove leggevamo che ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre. Quindi dicevamo la volta scorsa che Giacomo dipinge Dio come un padre e l'idea che emerge da questo versetto è di un padre che fa solo buoni doni ai suoi figli e che le cose buone quindi che ci sono su questo pianeta vengono tutte, ma proprio tutte, da Dio. Però, ecco, oggi vorrei portare sul piatto anche altri testi biblici che parlano di Dio, per esempio, mi è venuta in mente la prima epistola di Giovanni al capitolo 4, il versetto è il versetto 8, che dice così Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Questo testo è molto profondo e ha delle cose che dice e delle cose che non dice ma sottintende. Intanto ci dice che Dio è amore e quindi questo è un elemento molto importante sull'identità di Dio e sul suo carattere, Dio è amore. Però questo testo implicitamente ci sta dicendo che ci sono persone che non amano e che non hanno quindi un atteggiamento amorevole e le loro azioni non sono motivate dall'amore, al contrario. E perché? Perché non hanno conosciuto questo Dio, non l'hanno voluto conoscere, non hanno una relazione con questo Dio e quindi vanno in un'altra direzione, diversa dall'amore. Poi un altro testo che lo prendo dal primissimo capitolo della Genesi al versetto proprio 1, che ci dice che all'inizio Dio creò, perché tu Alessia mi chiedevi anche chi siamo noi per Lui. Ecco, all'inizio Dio creò, Dio è colui che ci ha creati, quindi è colui che ci ha dato la vita e che sostiene la nostra vita. Questo è bello, è bello sapere che abbiamo un Dio che ci ha voluti, che ci ha creati e che ci vuole dare la vita. E poi non si limita a creare questo Dio, c'è un versetto in Esodo al capitolo 34, versetto 6, che ci dimostra quanto questo Dio sia ricco di amore proprio, perché dice il testo Dio è misericordioso, è pietoso, è lento all'ira, è ricco in bontà e in fedeltà. Quindi a dispetto di quello che a volte non conoscendolo potremmo pensare di Lui, Dio è un Dio ricco d'amore. C'è un testo poi famosissimo nella cultura cristiana in Prima Corinze, capitolo 13, che parla dell'amore e alcuni di questi versetti, 4 e 5, dicono di questo amore di Dio sulla natura, di questo amore che è paziente, è benevolo, non invidia, non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, l'amore di Dio non cerca il proprio interesse, non si nasprisce, non addebita il male. E infine un ultimissimo versetto, ce ne sono tanti, ma qui viene fuori un tipo di amore che spesso io purtroppo non sono capace di dare, quindi questo amore incondizionato, cioè Dio ci ama non per quello che siamo o facciamo, e dice mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi, è Romani 5, il versetto 8, quindi Dio ama anche chi sbaglia, ci ama così come stiamo, ecco. C'è un altro testo molto conosciuto che troviamo nella lettera ai Romani al capitolo 8, versetto 28, che dice che tutte le cose cooperano al bene di chi ama Dio, quindi come possiamo interpretare questo testo? Significa che chi ama Dio è più protetto rispetto a chi non lo ama o il significato è un altro? Allora, questo testo non dice che Dio causa tutte le cose, ma che Dio è all'opera in tutte le cose, che trasforma, che cerca di tirare fuori quanto più bene possibile dalle tragedie, no? Ecco, mi viene in mente un po' l'idea del riciclo, sai quegli oggetti stupendi che a volte qualcuno riesce a impegnarsi a produrre e noi restiamo bocca aperta perché ci sembra impossibile che da un oggetto dismesso, che era stato buttato, venga fuori una cosa così bella. Ecco, Dio ha questa capacità di recuperare, di riqualificare, no? Alcuni poi si chiedono se questo voglia dire che chi ama Dio è protetto rispetto a chi non lo ama. Ecco, anche qui io vorrei andare alla Bibbia e vado al capitolo 13 di Luca, dove c'è Gesù che fa due esempi interessanti, tenendo sempre presente quella parabola del campo, della presenza delle zizzane e del nemico, no? Però in questo capitolo 13 di Luca Gesù parla prima di un gesto sanguinoso compiuto coscientemente da Pilato verso alcune persone che aveva ucciso. Questa è una decisione di Pilato che porta inevitabilmente in una direzione la sua vita e quella di altri. È un gesto deliberato, diciamo. Però poi al versetto 4 Gesù menziona invece un fatto di cronaca, un episodio della torre. Quindi una torre crolla e otto persone muoiono. Quindi è una tragedia, no? Lo troviamo al versetto 4, parla di 18 sui quali cade la torre di Silo e li uccise. Gesù fa una domanda. Pensate che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? Più colpevoli di altri? Cioè, gli è successo questo per questo motivo? Certo che no. Ecco, Gesù fa questi esempi eloquenti. Quindi, nell'esempio di Pilato noi vediamo che Gesù ci sta facendo vedere due casi, cose che capitano per una scelta consapevole o inconsapevole di qualcuno. E invece un'altra situazione in cui qualcuno rimane vittima di una cosa che è accaduto. Ecco, nel secondo esempio della torre è un'immagine più grande, perché tutto è avvolto in qualcosa di molto negativo in questa immagine. Gesù ci fa vedere un mondo in cui c'è una situazione che ci travolge a prescindere. E quindi questo ci fa capire che alle persone a volte capitano delle cose non perché se le sono cercate o perché qualcuno le ha causate proprio direttamente in quel momento. E Gesù ci fa capire anche che le cose che accadono non sono una punizione di Dio, assolutamente. E quindi è anche vero che non è che se ci avviciniamo a Dio che le cose ci vanno bene. E quindi magari diciamo adesso mi avvicino a Dio così mi andrà tutto bene nella vita. Io questo ve lo posso dire per esperienza, perché quando io con la mia famiglia ci siamo avvicinati a Dio è iniziato proprio il periodo più duro di sofferenza per la famiglia. Quindi non c'è un'equazione, ci comportiamo bene e Dio ci dà cose buone. In questi discorsi, quello della parabola del campo e questi esempi che Gesù fa, vediamo che c'è una situazione complessa. E anche in Ecclesiaste 9.11 Salomone dice io mi sono rimesso a considerare che sotto il sole per correre non basta essere agili, non basta combattere per essere valorosi. Fa vari esempi e dice tutti dipendono dal tempo e dalle circostanze. Quindi Gesù ci fa vedere queste situazioni, queste due situazioni diverse. Un'azione deliberata e una fatalità che però non è una fatalità. Questa situazione intricata e complessa dove le cose capitano a chi si comporta bene, ma anche a chi non si comporta bene, questa situazione è dovuta a un motivo e il motivo per cui tutto accade è che un nemico ha fatto questo. Quindi poi ci sono anche dei costruttori magari che hanno utilizzato materiali scadenti per costruire una torre, forse anche per quello che è la torre crollata. Per costruire una scuola forse sono stati usati materiali scadenti e al terremoto poi la scuola crolla. E qui in questo esempio vediamo persone che mettono al primo posto il profitto personale e mettono a repentaglio comunque la vita di tante persone, anche di bambini. Però l'importante, la Bibbia ci spiega, è che non è Dio che è l'autore del male. E alla luce di questo, Maria Rosa, possiamo sperare nel futuro? Allora, io vorrei lasciare sempre parlare la Bibbia perché Gesù, c'è stato un momento in cui ha parlato con i suoi amici, vedeva cosa sarebbe successo nel futuro. E in quel testo che fra poco vi leggerò, Gesù lascia una certezza incredibile ed è in questa certezza che noi dobbiamo trovare forza. La fede, la fede, questa certezza che ci porta a guardare il giorno in cui Gesù ritornerà, in cui tutte le lacrime saranno asciugate, quindi noi entreremo nel futuro guariti dalle tragedie che ci hanno colpiti. Ma ci porta anche a guardare, questa fede, come Gesù ci esorta, le cose che capitano con coraggio. Gesù dice in Giovanni 16 Ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Se pensiamo che questa vittoria Gesù la riporterà sulla croce, no? E lui stesso sa quando parla di avere vinto, ma la storia deve avere un percorso. Il percorso è perché Dio rispetta la libertà, la coscienza di tutti. La storia della salvezza ha un percorso. Gesù stesso dopo qualche ora sarà ucciso e viverà lui stesso quella tribolazione di cui parla e la vivrà con coraggio, perché sa che è il male vinto, che è questione di tempo. E anche noi oggi possiamo pregare per avere questo coraggio e portarlo ad altri, nonostante le cose brutte che accadono. E nonostante quello che accade, sapere che Dio è all'opera e proprio per questo volere essere al suo fianco, essere quel grano buono che cresce nel campo, che porta cose buone agli altri. In seconda Pietro 3.13 dice che secondo questa promessa noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abita la giustizia, quindi un mondo perfetto, riportato alla sua bellezza iniziale, senza il dolore, dove non ci sarà più la morte. Quindi questa è la speranza e la positività che abbiamo davanti agli occhi, ma dobbiamo andare avanti con coraggio. Grazie Maria Rosa per questa riflessione che ci invita appunto a non scoraggiarci, ma ad avere fiducia in Dio e ad avere anche la certezza che ciascuno di noi è molto amato dal Signore. Possiamo quindi riporre la nostra fiducia e la nostra speranza in Lui. Siamo quindi giunti alla conclusione di questa puntata. Ringraziamo Maria Rosa Cavalieri, responsabile del Dipartimento Ministeri Personali e Scuola del Sabato della Chiesa Cristianaventista e ci diamo appuntamento alla prossima. Ciao Maria Rosa. Arrivederci. Riflettiamo insieme. Un programma a cura di Radio Voce della Speranza.